In primo piano La Commissione ha concluso i lavori del piano sociosanitario, si è trattato di un lavoro molto lungo, più di 30 riunioni di Commissione, un lavoro che porterà il piano sociosanitario in aula e noi ci auguriamo che entro la fine di marzo possa essere approvato in modo che poi tutti gli addempimenti di gestione della riforma si possano positivamente avviare. La Commissione Sanità tra novembre e febbraio ha esaminato tutti gli articoli della proposta di piano sociosanitario presentata dalla Giunta. Sono stati svolti anche numerosi incontri con tutti i soggetti interessati e nelle sedi delle otto province del Piemonte. Per martedì 13 e mercoledì 14 marzo i capigruppo hanno quindi fissato le prime sedute del Consiglio regionale in cui si inizierà a discutere del piano sanitario. La nostra opposizione ha impedito al centro-destra di commettere un grave errore dividendo l'ospedale dal territorio, ma non è ancora finita. Noi abbiamo delle perplessità sulle istituzioni delle federazioni, soprattutto se sono sei nuove aziende con sei nuovi direttori generali. Abbiamo delle perplessità sul fatto che il 118 diventa una nuova azienda con un nuovo direttore generale e non siamo ancora soddisfatti delle questioni che riguardano i servizi sociosanitari. In aula cercheremo ancora di migliorare il piano.